Lutto, vediamo un po' quali sono le 5 fasi per elaborare il lutto. Naturalmente, per prima cosa, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video e partiamo e vediamo quindi quali sono le 5 fasi per elaborare il lutto, che può essere anche elaborare la perdita di un amore, come elaborare il lutto o la perdita di un amore, che sono cose molto simili fondamentalmente, non c'è una grande differenza tra elaborare il lutto e elaborare la perdita di un amore, sono cose abbastanza simili, insomma, se andiamo a vedere bene, non c'è tutta questa grande differenza tra una cosa e l'altra. Allora, cerchiamo di capire un attimino quali sono quindi queste 5 fasi. Prima però iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video, seguimi su tutti i canali YouTube, ovviamente, ed è un punto molto importante perché spesso siamo anche lasciati, il lutto non significa perdere, diciamo, una situazione definitivamente, no? Salutiamo la nostra greenettina, Green Apple, potrebbe essere anche un abbandono, potrebbe essere... salutiamo anche Cristiana, la vecchia, la prima fase che naturalmente tendiamo a vivere è quella della negazione, no? Cioè, quando... salutiamo Roxy, quando una persona vive una situazione di questo genere, tende a negare fondamentalmente, no? Tende a negare perché sia che tu vieni lasciato, sia che una persona se ne va per qualche motivo, soprattutto se accade improvvisamente, no? Perché se accade nel tempo, le persone si rifiutano, no? Di credere alla realtà, si rifiutano, negano fondamentalmente la perdita. Questa negazione, diciamo, se vogliamo, è un meccanismo di difesa temporaneo, no? Perché, come dire, negare una cosa, non crederla, ti difende fondamentalmente, no? Quindi questo è quello che normalmente accade all'inizio fondamentalmente, no? Quando uno non se ne rende conto probabilmente, è quello che chiamiamo non ce ne rendiamo conto, no? La prima fase, quindi, è quella che possiamo, diciamo, renderci conto. Quindi ci sarà la fase del dolore fondamentalmente, no? Dove ci rendiamo conto che qualcosa è accaduto, no? Perché questo è un punto molto importante, no? D'altra parte, anche nelle relazioni sentimentali affettive, spesso, come dire, le relazioni sentimentali affettive sono un surrogato, spesso noi pensiamo di aver perso chissà chi, no? Di aver perso l'anima gemella. Ma l'anima gemella non esiste, insomma. E anche se tu pensi di averla trovata tra 7 miliardi di persone, tra 8 miliardi di persone, in realtà non esistono anime gemelle, non esistono fiamme gemelle. Per cui, da questo punto di vista, è un, come dire, dovremmo renderci conto che la perdita di una relazione sentimentale affettiva non dovrebbe avere nulla a che vedere, no? Con la perdita definitiva di una persona, perdita inteso di una relazione sentimentale affettiva, perché questa persona ti ha lasciata o ti ha lasciato. Quindi questo, comunque, è il primo punto. Poi dobbiamo renderci conto che, invece, come dire, la cosa è avvenuta, no? Quindi la presa di coscienza. La presa di coscienza porta, ovviamente, dolore. E il dolore va vissuto, fondamentalmente. Ma non porta soltanto dolore, porta soprattutto anche rabbia. Talvolta c'è la seconda fase che spesso che si vive è quella della rabbia, fondamentalmente. Quindi queste prime due fasi si manifestano in questo modo, no? La negazione che ha questa funzione di difesa temporanea per proteggerti, no? Da questo shock iniziale della perdita è il rifiuto di accettare, fondamentalmente, no? Quindi mostrano una resistenza le persone ad accettare questa cosa. Talvolta si comportano anche attraverso rituali, no? Pensate, beh, ad esempio, nel lutto normale proprio la presa di coscienza avviene proprio attraverso il rituale del rituale della sepoltura, no? Dove magari la persona si rivolge a un prete che dice una messa, ci sarà il funerale, tutta la fase del funerale, della sepoltura e tutto in realtà ha anche la funzione di farti prendere coscienza, diciamo, perché tutto quello che resta nell'inconscio diventa più forte e ti fa prendere coscienza del fatto che questa cosa è avvenuta e che, insomma... Ma è lo stesso discorso che uno potrebbe fare in modo anche quasi divertente quando una persona ti ha lasciato, no? Se una persona ti ha lasciato o se una persona per te è negativa, soprattutto, potresti veramente tu fargli il funerale proprio per elaborare il lutto quindi quello che io suggerisco, appunto, è se ti lascia uno e tu stai lì attaccato fagli il funerale, no? Perché fare il funerale, tra virgolette, vai dal prete, gli fai dire a me se è morto Mario, no? Come ho già spiegato tante volte serve proprio affinché tu possa prendere coscienza di questa cosa e non alimentare la speranza perché ovviamente quando una persona ti lascia rispetto a quando una persona va via definitivamente c'è una grande differenza, no? Che nel primo caso comunque la speranza del ritorno o perlomeno in questa vita, no? Poi ovviamente ci può essere la speranza di rincontrare questa persona in un'altra dimensione, no? Nell'aldilà chi crede, ad esempio, nell'aldilà cioè non nella reincarnazione magari uno potrebbe anche credere di rincontrarlo in un'altra vita, in un'altra forma chi può credere di rincontrarlo nell'aldilà comunque in questa vita nessuno, diciamo, ha più la speranza, no? Di rincontrare questa persona a meno che uno non pensa che si possa reincarnare prima della morte però tutto è possibile ma comunque diciamo che il meccanismo di elaborazione avviene quasi automaticamente, no? Però per superare la negazione è molto importante fare questa sorta di funerale che uno può farlo anche dentro di sé lo stesso discorso invece quando una persona ti lascia e tu puoi avere sempre la speranza che questa persona torni e questa è la cosa negativa, no? Perché la speranza, diciamo, che questa persona possa tornare che questa persona possa di nuovo mettersi con te potrebbe, diciamo, farti perdere tempo, no? Perché tu vivi di speranza ma alla fine non... questa speranza non ti porterà poi nessun risultato concreto non ti porterà poi nessun risultato tangibile e la seconda fase, dicevo, salutiamo Dorothy la seconda fase una volta che tu hai capito, diciamo hai negato, quindi hai negato che questa persona attraverso il funerale te ne rendi conto quindi scatta il momento del dolore perché nella prima fase non c'è neanche il dolore è una fase anestetizzante fondamentalmente scatta la fase del dolore e spesso anche la fase della rabbia e uno dice, ma perché è rabbia? beh, se è una persona che ti ha lasciato puoi provare rabbia nei suoi confronti perché, diciamo, pensi che sia una stronzo non stronzo, insomma nel caso in cui la persona è defunta la rabbia può emergere, diciamo, come reazione alla percezione di ingiustizia, no? oppure alla sensazione di essere stati trattati male dalla vita oppure addirittura talvolta può anche rivoltarsi contro la persona, no? defunta, no? come dire hai sbagliato a morire soprattutto questo cade, accade quando ci sono degli incidenti, no? incidenti magari che uno si potrebbe risparmiare ad esempio se una persona un marito, una moglie una persona con la quale c'è un legame affettivo muore per dire perché è andato a fare parapendio oppure perché è andato a fare escursioni alpinistiche estreme, scalate potrebbe venire anche fuori la rabbia di quella persona e dirgli, salutiamo, sì, sì la rabbia verso quella persona di dire, ma poteva evitare, no? di andare a buttarsi giù col paracadute oppure poteva evitare di andare a scalare le montagne e questo quindi si può manifestare la rabbia quindi la rabbia è la seconda delle cinque fasi diciamo in cui si manifesta questa situazione ovviamente se la per sé è una persona salutiamo la nostra patella sullo scoglio, sì, sì se invece è una persona che ti ha lasciato allora la rabbia sarà verso questa persona che è stronzo, cattivo, negativo, no? come dicevo se invece è morto per un incidente che poteva evitare magari non commettendo delle imprudenze, no? magari potrebbe essere quello che va forte in macchina quello che corre in moto quello qua, quello là e allora potesse addirittura provare rabbia per questa persona che ha fatto questa imprudenza, no? verso la persona defunta fondamentalmente però c'è diciamo poi un'altra fase che è quella se vogliamo quella che viene chiamata la fase della contrattazione, no? in questa fase le persone contrattano con chi? salutiamo Betty Kotic beh, cercano di contrattare con una forza superiore, no? talvolta anche nella speranza di poter interagire ancora interagire ancora con questa persona ad esempio persone che hanno perdite di figli o di persone così molto vicine, no? la perdita di un figlio cercano in questo caso di non dico di ottenere la reversibilità della perdita perché è ovvio che questo diventerebbe come dire problematico ma magari la possibilità di entrare in contatto con questa persona in un'altra dimensione, no? quindi molto spesso le persone e questo è anche liberatorio, no? molto spesso le persone dicono ad esempio di aver sognato la persona defunta ma la stessa cosa capita quando sei stato lasciato sei stato lasciato da X e tu pensi di poter entrare in contatto con questa persona nei sogni te la sogni ovviamente oppure delle cose metafisiche, no? nel diciamo se sei stato abbandonato si può credere in cose metafisiche come ad esempio la legge d'attrazione potrebbe essere una un fatto, no? attraverso la legge d'attrazione attrago questa persona e la faccio tornare dentro di me in realtà tutto può funzionare la legge d'attrazione funziona ma in questi casi è proprio l'attaccamento normalmente funziona al contrario quando sei stato lasciato invece c'è quindi invece il parallelismo quando la persona è deceduta veramente quando la persona è deceduta veramente ci sono quando la persona è deceduta veramente si pensa di poter ottenere diciamo un contatto attraverso si spera di poter ottenere un contatto attraverso magari una seduta spiritica una seduta medianica questo è un punto molto importante un punto fondamentale non si può pensare e quindi ci sono dei comportamenti tipici ad esempio la preghiera la preghiera il sogno sono tutti modi che servono in qualche modo per cercare di mantenere un film un film un fil rouge di contatto con questa persona ripeto nella perdita dell'abbandono diciamo si ha la speranza ad esempio di attraverso la magia attraverso la legge dell'attrazione attraverso queste cose di poter entrare in contatto o di poter riconquistare fondamentalmente la persona di poter riconquistare la persona che ti può interessare nel frattempo metti un like iscriviti al canale attiva la campanella metti un like che è gratuito e se vuoi dare un sostegno al canale puoi fare una donazione cliccando sul tastino col dollarino se ti vuoi abbonare per anche far domande puoi cliccare sul tastino abbonati e fare l'abbonamento al canale quindi queste tre fasi diciamo sono potremmo definire le fasi preliminari fondamentalmente in cui per certi versi si mantiene un po' il contatto con questa persona ovviamente nel caso di perdite tipo un figlio ci sono persone che magari nell'esoterismo le sedute medianiche il channeling il contattismo cercano di mantenere comunque un rapporto una relazione che può andare avanti anche negli anni anche nel tempo quando una madre ad esempio perde un figlio quando una madre perde un figlio ad esempio può avere tante speranze diciamo di poter entrare io ho conosciuto una signora che aveva perso la figlia di 17 anni in un incidente stradale parlo di tanto tempo fa ovviamente la perta di un figlio in modo improvviso questa ragazza di 17 anni è morta in un incidente e ovviamente avviene in modo come possiamo dire repentino e ovviamente il legame tra una madre e una figlia in quel caso lì è un legame molto forte e lei ha trovato diciamo la sua dimensione attraverso la metafonia cioè accendeva praticamente era negli anni 90 quindi c'era ovviamente c'erano già i sistemi di registrazione erano un po' diversi però comunque c'erano i sistemi di registrazione digitali già registrava diciamo il nulla cioè il vuoto ad esempio quando registrava il vuoto quando ad esempio che ne so di sera si metteva lì non c'erano rumori accendeva il registratore lo teneva acceso per un po' poi spegneva il registratore andava a risentire e diciamo tra i come possiamo dire tra i rumori di fondo diciamo così del del registratore sentiva sentiva una specie di voce femminile che lei identificava come la voce della figlia che mandava dei messaggi diciamo che mandava dei messaggi come possiamo dire rincuoranti fondamentalmente no ovviamente io ho anche sentito queste registrazioni e serve molta proiezione secondo me no cioè non è che senti una voce chiara che ti dice sono certo se uno nei rumori di fondo ma è un po' come guardare le nuvole no non so se vi è mai capitato magari in alcuni casi di guardare le nuvole le nuvole hanno delle forme che possono essere un po' strane e tu in queste nuvole ci puoi vedere quello che vuoi fondamentalmente no come dire anche registrare il vuoto siccome dei rumori di fondo ci sono siccome i registratori magari percepiscono delle cose è un po' il principio delle macchie di Rochard sono delle macchie che fondamentalmente non hanno nessuna valenza ma il meccanismo proiettivo dà una valenza ma comunque indipendentemente dal fatto che sia reale o non reale la cosa reale è che questa persona nel mantenere un contatto diciamo con nel mantenere un contatto con con questa figlia defunta ne aveva un beneficio perché si era fatta tra virgolette una ragione che in realtà la figlia non si era dispersa nel nulla ma era semplicemente passata in un'altra dimensione con la quale però poteva mantenere un contatto e quindi tutto quello che funziona da questo punto di vista credo che sia utile fondamentalmente e quindi questa è una caratteristica è una caratteristica poi ovviamente c'è un'altra fase che è quella proprio della tristezza spesso una volta che magari comunque hai provato rabbia hai provato qualche contatto attraverso la preghiera attraverso il sogno e entri nella fase di tristezza una tristezza che può essere anche una tristezza profonda dove una persona può magari iniziare a piangere a elaborare veramente proprio questa cosa sperimentare diciamo una tristezza profonda che però diciamo viene nel momento in cui si sperimenta in qualche modo la consumi fondamentalmente può durare più o meno lungo può essere alleviata da quello che vi dicevamo prima dalla contrattazione dal fatto di magari avere per dire mantenuto un contatto attraverso questa cosa nel fatto di diciamo nel quando una persona viene lasciata deve invece darci un taglio più rapidamente quando una persona viene lasciata soprattutto non deve alimentare la speranza di poter riconquistare deve farsi una ragione quando la persona viene lasciata perché non è morto nessuno sono tutti vivi il mondo è formato da 8 miliardi di persone se con una non è andata male te ne troverai in altra fondamentalmente questo è un punto fondamentale non dobbiamo renderci conto di questo fatto e poi c'è l'ultima fase che è quella in cui arrivi ad accettare accettare la situazione quindi si ricostruisce tra virgolette una nuova forma di vita in questo caso quando riaccetti devi anche iniziare a prenderti cura di te stessa di te stesso cioè prendersi cura di sé sta alla base del recupero del proprio benessere una volta che hai attraversato queste fasi è importante in un caso o nell'altro prendersi cura di sé prendersi cura di sé da un punto di vista del benessere emotivo ad esempio instaurare delle routine instaurare delle routine positive delle routine positive ad esempio facendo attività fisica attività sportiva quindi stabilire una routine positiva fare delle cose che ti possono piacere sia nel caso che hai sperimentato un lutto di una persona che sei andata sia nel caso in cui una persona ti ha lasciato ti ha abbandonato è molto importante prendersi cura di sé darsi delle emozioni darti altre emozioni fare delle cose che fondamentalmente ti piacciono fare delle cose che fondamentalmente ti possono dare dei benefici ecco queste sono quindi ovvio che poi qua diciamo vuol dire che hai superato un po' queste fasi e ne possono iniziare altre può iniziare veramente un 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 riprendere diciamo una nuova fase della vita ovviamente l'accettazione l'accettazione deve ognuno di noi troverà una sua soluzione in base alle sue credenze ad esempio attraverso la PNL noi possiamo ristrutturare un po' la nostra mente però in base alle nostre credenze in base a quello che pensiamo possiamo avere la capacità la possibilità di definire qualche cosa che da questo punto di vista ci può aiutare bene questo è un po' quello che volevo dire con questa breve live farò tra un po' non tra molto un'altra live per quanto riguarda i narcisisti che c'è un tema che volevo trattare sui narcisisti e quindi saluto un po' tutte le persone che si sono collegate mi raccomando se volete fare una donazione